Lega versus Lega, gioco di parole per indicare lo scontro aperto tra il presidente di regione, Luca Zai, e la prefetta di Treviso, Laura Lega. Attaccata dal carroccio che chiede ai sindaci di boicottare la sua richiesta di inserire i profughi nei servizi socialmente utili, oggi rifiuta ogni intervista sull'argomento e sull'incontro per la firma del citato protocollo che martedì si terrà in prefettura. E mentre si attende anche in Veneto il flusso dei 40.000 migranti in arrivo al confine croato nelle prossime ore, chiara la posizione del governatore. I profughi noi li accogliamo perché scappano dalla morte e dalla fame, ma se non sono profughi se ne devono tornare a casa loro. Penso che questo sia un principio valido perché se tu non sei profugo è altrettanto vero che noi abbiamo Veneti che soffrono più di quelli che vogliono fare i migranti economici in giro per il mondo. Quindi chi si oppone oggi non si oppone per mancanza di solidarietà, non perché ha paura del diverso ma paura dell'ignoto, paura di quelle due persone su tre che nulla hanno a che vedere con morte e con fame. Polemico con la prefetta anche il mondo del volontariato, incaricato dalla prefettura di formare richiedenti asilo e inserirli nel mondo del lavoro, ma senza alcun onere a carico dello Stato. Vogliamo solo in qualche modo però far presente che noi siamo uno stato di volontariato, non possiamo essere quelli che risolvono i problemi di tutti. E quindi ci mettiamo a disposizione in un contesto in cui ci siano le altre forze per collaborare assieme e fare in modo che i migranti che ci sono diventano parte attiva nella gestione dei beni comuni che evidentemente può essere fatta senza disturbare nessuno e senza rubare lavoro a nessuno. L'accoglienza è un business ma attenzione a chi lucra, il campanello d'allarme è lanciato tra i volontari da sempre a favore della solidarietà. Se quell'ammontare che è destinato all'accoglienza del migrante, su quell'ammontare diciamo c'è una quota che viene appropriata dall'organizzazione che è troppo alta, a quel punto ovviamente c'è la speculazione e questo non va bene.